ogni volta che mi ritrovo a pulire un muro penso alle stesse cose penso a quando ho fatto parte della fisioterapia dopo l'operazione alla spalla pulendo muri dalla mattina alla sera in Cina cerco di immaginare quanti chili di colore posso aver cancellato nel corso di tutti questi anni quante parole, quanti concetti e quanti disegni penso a carta e chitta ai movimenti che sembrano inutili ma che ti nascosto ti insegnano qualcos'altro o scopri che erano utili solo dopo un po' per caso conservo i movimenti, le pose per capire da che parte si fa prima e si consuma meno energia e cerco di capire quali colori sono più difficili e come non lasciare tracce penso a Tom Sawyer che sapeva delegare ad altri lavori simili facendoli passare per i più belli del mondo penso alla ripetizione, a quei gesti che ci annoiano ma che se li abbracciamo diventano piacevoli penso che poche cose mi rilassano come questa pratica in cui replicare diventa un ritmo il bianco quello che vuoi aspirare e il movimento un gesto completamente al servizio degli altri grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.